Eccoci a Ecoforum 2021 di Roma con Fabrizio Monti, direttore commerciale e responsabile sviluppo di Terchimica Italia. Spesso ci sono degli argomenti, dei settori, dei fronti rispetto ai quali appare strano, appare anche un po' surreale parlare di sostenibilità e invece Terchimica Italia sta facendo tanto in questo senso per ciò che concerne gli asfalti. Sicuramente sembrerebbe una contraddizione in termini abbinare l'asfalto e le strade a qualcosa di ecologico, questo è un dato di fatto. Uno collega molto di più le ferrovie e altri mezzi di comunicazione a tutto ciò che è green, ma ci sono sicuramente sistemi oggigiorno che ci consentono di parlare anche di strade in termini di aumento di ecosostenibilità perché ci possono essere declinazioni, come dicevo, come ha detto nell'intervento precedente, che aumentano la vita utile delle pavimentazioni. Quindi già questo di per sé è un beneficio ambientale dal punto di vista della riduzione delle risorse, riduzione di consumo di suolo, riduzione di consumo di energia, riduzione di emissioni di CO2 equivalente. Quindi questa è un'applicazione ed è quella dell'ultimo prodotto che abbiamo presentato, che è il GPEV, quello fatto in collaborazione con la regione Lombardia e con dei fondi europei, con GIECO, con l'Università Milano e Bicocca e con il produttore del prodotto, che è il prodotto al grafene. Ma ci sono anche tantissime altre tecnologie in ambito stradale più o meno conosciute che possono dare sicuramente dei benefici ambientali all'economia circolare. Basti pensare che certe strade, certe tipologie di strade a basso traffico, strade pedonali o ciclabili possono essere realizzate con il 100% di materiale riciclato. Già questa qui per me sarebbe una cosa da amplificare a tutti i livelli. Ci sono tecnologie che consentono la riduzione delle isole di calore urbano, con la colorazione in massa o in superficie. Ci sono tecnologie che speriamo vengano riprese anche nei CAM di prossima emissione, dei CAM strade, fondamentali per il nostro settore, per noi e per tutti gli enti che lavorano nella filiera delle strade, che consentono per esempio la riduzione, la produzione a temperature più basse, la riduzione di temperature di produzione e di posa. Quindi costruire strade ecosostenibili è possibile, insomma. È possibile al di là di quello che tutti pensano, insomma. Compresi gli stessi addetti al settore, perché ci sono molti enti poco innovativi, ce ne sono di innovativi ma sono più rari, la maggior parte sono un po' resti all'innovazione e speriamo che il nuovo piano nazionale di ripresa e resilienza, che i CAM strade, insomma, agevolino l'utilizzo di queste tecnologie, che sono di beneficio per tutti. Cioè, quando si parla di aumento di durabilità delle strade, è sicuramente un beneficio ambientale, ma è anche un beneficio per il portafoglio di noi contribuenti, ecco, quindi sicuramente è possibile farle, ecco.